Dal 2008 la Regione Toscana ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Equitalia che impiede il recupero delle intrate e delle somme non pagate da terzi in ambienti. Non tutte le Regioni d'Italia si avvalgono del servizio di Equitalia, molte hanno mantenuto internalmente questo servizio di discussione e con questa mozione noi chiediamo un impegno alla Giunta regionale affinché valuti la possibilità di reinternalizzare questo servizio che precedentemente era svolto dalla Regione Toscana ed oggi è svolto da Equitalia. Ricordiamo anche che nonostante sia partito solo da novembre il nostro punto toscano SOS Equitalia, il nostro punto d'asporto, da novembre ha già trattato più di un milione di euro di cartelle esattoriali, ha dato ascolto e aiuto a diversi cittadini del territorio toscano e ricordiamo, potete leggere anche in grafica qua sotto, che il punto è aperto tutti i mercoledì dalle 15 alle 17, potete contattarlo allo 050 98 0559 oppure scrivere un'email antiequitalia.toscana.gmail.com Grazie a tutti! Grazie a tutti!